Panettone, panettone, uvetta, oddio parenti ovunque, nipoti, zii, cugini, ma quanti sono? Regali, regali ovunque, trovi regali! Ragazzi ho fatto un incubo, ho segnato il Natale, tra una settimana! Tra una settimana è Natale! No ragazzi, vi sbagliate, tra una settimana non è Natale, è il Salva Special Event! Dove? A Montegiardino. Ma quando? Sabato 10 dicembre. Ma a che ora? Alle ore 20 no? Giusto! Vi aspettiamo! Grazie! 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 Grazie!